Benvenuti alla premiazione del concorso presepi giunto alla sessantottesima edizione per la città di Milano e alla trentatreesima edizione per la diocesi di Milano. Sono stati centinaia i presepisti che si sono iscritti al concorso 2021 sfidando le mille difficoltà dovute a questo tempo. Stiamo per proclamare i vincitori selezionati ma vogliamo dire grazie a tutti i partecipanti che anche quest'anno hanno contribuito a diffondere la cultura del presepe mettendo al centro di queste feste il mistero grande della natività. Dai piccoli della scuola dell'infanzia e della scuola primaria fino ai presepisti esperti che hanno costruito i presepi in parrocchia passando dalle tante famiglie che quest'anno hanno diritto in modo speciale. Valutati da una specifica commissione diocesana stiamo per rendere noti i premiati. Mettiamoci prima in ascolto del nostro arcivescovo. Anche i ragazzi, le ragazze che sembrano così allegri in realtà hanno dentro delle paure e io credo che il presepe invita a scoprire come vincere le paure. Per esempio c'è chi ha paura del buio. Ebbene nel presepe c'è la stella che irradia di luce anche la notte. C'è per esempio chi ha paura di perdersi come questa signora che sta andando a cercare la grotta ma nel presepe c'è la stella che indica la direzione. C'è chi ha paura dell'altro. Per esempio questo colore diverso dagli altri viene talvolta ma nel presepe si dice anche lui è in cammino con gli altri. C'è chi ha paura che succeda qualcosa che improvvisamente capiti qualche disgrazia. Ma nel presepe Gesù dice io sono il Dio con voi. Sono sempre con voi. Sono l'Emmanuele. C'è anche chi ha paura di Dio. Dice forse Dio mi vuole castigare ma nel presepe Dio è un bambino è Gesù. Come si può aver paura di un Dio bambino? C'è anche chi ha paura di essere escluso perché dice ma io non sono tanto capace di giocare ma io non sono tanto simpatico non sono tanto bella quindi magari gli altri non mi cercano. Ma nel presepe si mettono tutti i personaggi perché tutti sono chiamati ad andare alla grotta di Betlemme e nessuno è messo da parte perché non piace all'uno o all'altro. Ecco io voglio dire abbiamo fatto il presepe l'avete fatto tanto bene che sarete premiati ma il presepe non è solo un capolavoro d'arte o di creatività o di fantasia. Il presepe è il modo con cui si possono vincere le paure che ci trattengono dalla gioia. Perciò io vi ringrazio di aver partecipato al concorso presepe, mi congratulo per i risultati e vi invito a pensare a tutto l'anno in che modo col presepe avete imparato a vincere le paure. Auguri, grazie. Veniamo ora alla proclamazione dei vincitori Per la categoria parrocchie Milano-Città i finalisti sono la parrocchia Sacra Famiglia in Rogoredo, la parrocchia San Lorenzo in Monluè e la parrocchia San Nicolao della Flue. Vincere la parrocchia San Nicolao della Flue. Premiamo la categoria Famiglie per la città di Milano. I finalisti sono la famiglia Cretella, la famiglia Cretella, la famiglia Cretella, la famiglia Cretella e la parrocchia San Nicolao della Flue. E ora premiamo la categoria Scuole dell'infanzia. I finalisti sono la Scuola dell'infanzia Sacra Famiglia di Arese, la Scuola dell'infanzia San Giuseppe di Casate Novo e la Scuola dell'infanzia Betulle di Pieve Emanuele. Vince la Scuola dell'infanzia Sacra Famiglia di Arese. E' il momento della categoria Scuole Primarie. I finalisti sono la Scuola Luciano Manara di Milano, la Scuola Primaria Adanegri di Motta Visconti e la Scuola Primaria Oscar Romero di Suello. Vince la Scuola Primaria Oscar Romero di Suello. Passiamo alla categoria Parrocchie per la Diocesi di Milano. I finalisti sono la Parrocchia Santi Nazaro Eccelso di Arosio, la Parrocchia San Giorgio Martire di Liscate e la Parrocchia Santi Pietro e Paolo di Saronno. Vince la Parrocchia Santi Pietro e Paolo di Saronno. Una categoria speciale per l'edizione 2021. Proclamiamo il vincitore del concorso dei concorsi. Fra i concorsi presepi proclamiamo vincitrice Manuela Liberatrice della Parrocchia Sant'Ambrogio di Tresano sul Davizio. E infine premiamo la categoria Famiglie per la Diocesi di Milano. I finalisti sono la famiglia Bonanomi Consonni di Olgiate e Molgora, la famiglia Cavallaro di Gallarate e la famiglia Villa di Albiate. La vincitrice è la famiglia Bonanomi Consonni di Olgiate e Molgora. Ringraziamo tutti per la partecipazione. Vi diamo appuntamento all'edizione 21-22 del concorso Presepi Diocesi di Milano della Fondazione Oratori Milanesi. A presto! Grazie a tutti per la partecipazione.